A me spiace molto, ma ovviamente non entro in un giudizio di asprezza nei confronti della magistratura che fa in piena autonomia, in piena indipendenza e come meglio ritiene il proprio lavoro. Mi spiace perché conosco Eri De Luca, lo conosco bene, è un pensatore libero, so bene che intendeva in quel suo ragionamento un'opposizione forte a un'opera pubblica che ogni giorno che passa si dimostra inutile, dannosa, controproducente, con quei soldi avremmo potuto sistemare tutte le scuole d'Italia e questo è il pensiero di Eri De Luca. Se poi uno scrittore, un intellettuale, un pensatore usa una parola forte non è che diventa dall'oggi al domani un cattivo maestro e mi spiace vedere Eri De Luca che è un grandissimo scrittore internazionale e noi abbiamo l'orgoglio di tenerlo partenopeo e anche amico della nostra città, sedere sul banco degli imputati tutto sommato per una libera manifestazione del pensiero. Quindi micinanza assoluta e totale ad Eri De Luca.